L'Ucraina accusa le forze russe di aver lanciato lunedì una raffica di razzi su un quartiere residenziale della seconda città più importante del paese, Kharkiv, dove diverse decine di civili sarebbero morti proprio quando stava per cominciare l'incontro fra le delegazioni russa e ucraina ai confini della Bielorussia. I bombardamenti di Kharkiv sono stati il preludio a diversi tentativi russi falliti di impadronirsi della città. Intanto la vita in tutto il paese diventa la corsa alle provviste, la ricerca dei bancomat che possono erogare contanti per coloro che non hanno abbandonato il paese. Siamo riusciti a entrare in un supermercato, ma non c'era pane né latte né uova, c'erano soltanto acqua e dolci, commenta un signore della fila davanti a un magazzino di Kiev. Si è concluso il primo atto del negoziato in cui l'Ucraina chiede ai russi un cessato il fuoco e il ritiro dell'esercito, mentre per porre fine al conflitto Putin vuole la neutralità dell'Ucraina e il riconoscimento internazionale della Crimea come territorio russo. Le delegazioni dovrebbero ritrovarsi a breve. Nel pomeriggio il presidente francese Macron ha parlato in videoconferenza con gli alleati dell'Unione della Nato, tra cui il premier Mario Draghi, e ha concluso la serata con una cena di lavoro all'Eliseo col cancelliere tedesco Scholt e la presidente della commissione von der Leyen. Il presidente ucraino Zelensky, che aveva chiesto a Macron di chiamare Putin, ha sollecitato l'Europa per un ingresso istantaneo dell'Ucraina nell'Unione, cosa che potrebbe incontrare diverse resistenze. La Svizzera ha deciso di allinearsi alle sanzioni adottate dall'Unione Europea. L'ha annunciato il Consiglio federale al termine di una seduta straordinaria. Parallelamente il governo elvetico riafferma la sua solidarietà con l'Ucraina. Il Comitato Olimpico Internazionale ha escluso definitivamente gli atleti e le squadre russe dalle competizioni sportive globali. Il bando, peraltro, dovrebbe applicarsi anche agli atleti della Bielorussia, data la partecipazione di quel paese all'invasione russa della vicina Ucraina.